Le persone grasse spesso sono vittime di bullismo. Il video di oggi va a parlare di persone grasse, quindi le persone obese. Quelle che purtroppo hanno un fisico in sovrappeso, nel giorno o meglio nella società di oggi, contano ben poco e anzi vengono molto spesso, ma non sempre per fortuna, ma presi in giro. Infatti pensate che proprio gli obesi e le obese sono le persone che più vengono prese di mira da parte di uno o più bulli. Il bullismo non guarda in faccia nessuno, questo lo sappiamo tutti, ma se c'è una cosa che, o meglio una categoria che più predilige il bullismo, quella è rappresentata dalle persone obese, dai grassi. Le persone che infatti sono in sovrappeso nella società di oggi hanno vita difficile. Perché? La risposta è molto semplice, in quanto è il primo canone o meglio caratteristica estetica che viene de facto, di fatto notata proprio dalla stragrande maggioranza degli esseri umani. Questo che significa, tradotto in parole povere, tradotto in soldoni, che se c'è una caratteristica estetica che ha una grande importanza per questa società di oggi è sicuramente il fisico. Come sei fisicamente? Come appari a livello fisico? Se sei obeso o obesa, ecco che molto probabilmente riceverai delle prese in giro, riceverai atti di bullismo. Sappiate che il bullismo predilige le persone grasse. Un magro difficilmente viene preso in giro. Io sono magro, infatti non ho mai, e ripeto, mai avuto problemi del genere. Nessuno si è mai messo nella condizione di dirmi, ah Lea, ma sei un secco di merda, sei un secchetto schifoso. No, nessuno in vita mia. Invece ho potuto vedere, ho potuto accorgermi, mi sono potuto rendere conto in concreto e non in astratto, che le persone grasse sono le persone che vengono prese in giro di più. Perché il grasso non è bello, perché il grasso non riesce a muoversi bene, perché la persona grassa deve essere necessariamente schernita, perché la persona grassa non si sa muovere, perché il grasso non sa, diciamo così, conquistarsi nemmeno una donna, in quanto è obeso, quindi si parte dal preconcetto che quello obeso non si sa amare, non sa farsi amare e molto probabilmente è destinato a rimanere single. Quando io vi posso dire che conosco persone obese, cioè grasse, che sono fidanzate con i loro simili, quindi con persone ugualmente grasse. Questo significa che vado a stravolgere quello che è il pensiero comune, no? Secondo cui il grasso non troverà mai una donna. Ecco, in questo caso mi sento di dire vi sbagliate, perché molti uomini grassi stanno con molte donne grasse, come molte donne grasse stanno ovviamente con molti uomini grassi. Tra simili si prendono molto. Qualcuno potrebbe venire qui sotto a scrivermi, Leandro, ma per quale motivo lo stereotipo fa sì che un grasso debba essere per forza di cose mal visto? Cioè perché il grasso deve essere schernito secondo l'ideologia giovanile? La risposta è semplicissima. Ed è perché il lato estetico ha un valore principale, fondamentale. E l'estetica, attenzione, chi è che la fa? L'estetica la fa un bel corpo, no? Se un corpo è in sovrappeso, quindi è grasso, è chiaro che molto probabilmente riceverà delle sonore prese in giro, delle sonore chiamiamole sberleffi, degli screzi, che dir si voglia. Questo perché l'estetica è un valore di fondamentale importanza in questa società in cui ci ritroviamo a vivere, a stare. Qualcuno potrà venire qui sotto a scrivere un altro commento, no? Io sto facendo delle ipotesi chiaramente, ipotesi che non pretendono di essere vere, ma che pretendono però di dire dal mio punto di vista come stanno le cose. Insomma, un altro utente potrebbe riportarmi. Ciao Leandro, seguo questo tuo canale. Però per quale motivo il grasso molto spesso e volentieri non si sa difendere? È semplice, no? Pure questa è una risposta semplice da dare, perché il grasso consapevole in quanto complessato, in quanto il complesso è stato creato dal bullo e dai bulli, è consapevole, ripeto, della sua condizione estetica. Quindi consapevole del fatto di non essere attraente, bello, piacevole, affascinante, si chiude in se stesso eppure essendo grosso a livello fisico non riesce de facto, di fatto a dire lasciatemi stare, lasciatemi perdere, non voglio avere prese in giro. Qualcuno potrebbe pensare, eh ma il grasso è forte perché il grasso esteticamente potrebbe menare a chiunque, no? Ecco, non è questione di grandezza fisica. Una persona può essere anche alta a 2,50 metri, obesa, può anche pesare 250 kg, ma se tu non sei cattivo dentro e fuori, è finita, non sei capace di menare e di dispressare il prossimo. Spesso e volentieri le persone grassi sono sensibili. Ci sono anche grassi non sensibili, però per, ripeto, saper menare bene, tu devi essere cattivo dentro. Devi essere talmente cattivo dentro che riesci de facto, di fatto, a suonarle e a cantargliene e quindi a dirgliene quattro. Punto. Non è così complicato da capire. Per quanto riguarda l'estetica, l'estetica oggi come oggi è la chiave di tutto. È inutile negarlo, no? Io esco, se voglio uscire esco, ma se devo uscire devo avere un amico bello, devo avere un'amica bella. Quante volte, no? Tra i giovani si dice una frase del genere, io no, io mi accontento dei miei amici, un mio amico può essere anche brutto, ma se dentro ha un bel cuore e si ha un bel cervello, io le andro, ci vado a uscire, perché non vado a vedere la bellezza di quell'amico o di quell'amica. A me interessa il suo cuore, il suo animo, la sua psicologia, appunto. Se ci sto bene, ci vado bene, bene. Ci sto bene, ci faccio due chiacchiere, mi ci confronto e ci sto bene perché comunque è un modo per stare in compagnia. Domani vi ricordo che vedrò un amico mio qui di Roma, passeremo il povero di giù insieme, ci divertiremo e sono convinto che potremo anche fare un eventuale video insieme, se ci sarà la possibilità e l'occasione. Se non vorrà, chiaramente lui, io dirò, va bene così. Ma concludendo il discorso e venendo al nocciolo della questione, la stragrande maggioranza delle persone grasse purtroppo al giorno d'oggi viene bullizzata. La maggior parte delle persone vengono bullizzate, subiscono passivamente il bullismo e non mi venite a dire no, ma guarda che ti stai sbagliando perché comunque non è vero che tutti... Attenzione, facciamo subito un distinguo. Ed è che io ho detto la maggior parte. Non ho detto che tutti gli obesi e tutte le obesi sono bullizzati e bullizzate. Attenzione. Ma la stragrande maggioranza, secondo me, sì, ha avuto atti di bullismo. È stato preso in giro o è stata presa in giro. E non mi venite a dire che non è così. Il problema deriva dalla psiche, deriva dalla moda, deriva dai programmi televisivi. Se lasciassimo stare solo per un istante questa cazzo di tv che continua ad annubilare le nostre menti e ci soffermassimo di più sul carattere, sulla psiche, sulla individualità umana, noi saremmo a cavallo. Come sarebbe bello il pianeta Terra senza umani. Sarebbe un pianeta perfetto. E ve lo dice Leandro Osmerli di Roma. Ecco, questa è la mia opinione, questo è il mio punto di vista. Il bullismo va a prendersela con chi ha dei problemi estetici, con chi ha delle, chiamiamole, problematiche. E il principe, no? La principale caratteristica è l'estetica. Se tu sei ciccione o cicciona, ecco che molto probabilmente sarai bullizzato. Io sono magro, sono magrissimo, nessun problema, anzi. Più sei magro e più per la società di oggi vai bene. Esempio concreto, andatevi a vedere le modelle. Se una modella ha la 50 non può fare la modella. Viene esclusa categoricamente dall'essere modella. E non mi venite a dire che non è così. Bisogna avere una taglia 46, al massimo 48. Ecco, se hai la 48 sei già obesa. Ma come? La 48 è una taglia piccola? No, per la moda di oggi la 48 non va bene. E questo è il mio punto di vista. Perdonatemi per la lunghezza di questo video, ma quando ci vuole ci vuole. Iscrivetevi, commentate, un saluto e al prossimo video dal vostro Leandro.